Oh, ti ha quasi estinto! Devi riscaldarti e non osare avvicinarti di nuovo a lui! Scusa, mamma! Ricorda, non è un tuo amico! Non avvicinarti a lei! Ehi, come stai? Ciao! Scusa se ti ho bruciato! Volevo solo fare amicizia! Niente potrà rovinare la nostra amicizia! Oh, siamo di nuovo qui! Batti i cinque! Ehi, non c'è fuoco nei miei capelli! Ma che è successo? Figlio? Te l'avevo detto di stare lontano da mia figlia! Il mio bambino! Smettila di piangere! Noi ce ne andiamo! Allora, ma che devo fare con te? Oh, devo pensarci! Oh, bastoncini infuocati! Li adoro! Temetemi! Mi stai spaventando! Non funziona! Penso che questo ci aiuterà! Le bolle di fuoco sono pronte! Wow, che carino! Uno, due! Fermati! Non giocare con il lanciafiamme! È molto pericoloso! Ho preparato delle bolle per te! Guarda, sono molto dense! Ciao ragazzi! Non fatelo anche voi! Questo è... Oh, è fuoco! Grazie! E non è tutto! Ora abbiamo tutti i materiali giusti! Hai bisogno di aiuto? Grazie! Ritagliamo una striscia di pomeran! E ora tocca a te! Passiamo lungo il bordo con la pistola! Intelligente! E aggiungiamo la franja infuocata! Bello, no? Oh, sì! Penso di potercela fare! Così! Wow, mi piace! E non dimenticare questo! Oh, oh! Ha funzionato! Oh, di nuovo i poteri del fuoco! Questo è il potere del karate delle sirene! Il flusso del mare profondo! London Amala! Ancora! Wow, stai facendo progressi! Continua! Kaya! Che sono questi, acrobati perdenti? Come hai detto, vuoi fare karate? Ok, scusate, acrobati! Siamo dei veri combattenti! Non distrarti! Siamo combattenti di karate! Una tempestomarina! Oh, no! Il mio acquario! Ho esagerato! Ehi, così mi bagnerò! Devo occuparmi di questa crema! Oh, no! È difficile respirare! Wow, il mio potere è tornato! Ti salverò! Oh, questo è un miracolo! Tutti questi allenamenti sono stati molto utili! Grazie! Siete fantastici! Perché? Ne dubitavi, forse? Bene, bene, bene! Oh, si è un po' sciolto! Ehi, posso aiutarti? Puoi provare questo prodotto extra caldo? Oh, sembra delizioso! Oh, ha una cottura media? Sì, è buono, non credi? Ok, allora lo proverò! Ops! Sei così divertente! Forse potresti usare un cucchiaio? Grazie! Non è così caldo ai bordi, giusto? Oh, sa di fumo! Allora che ne pensi? Wow! Vuoi che parli con il cuoco? Sì, chiedigliene ancora! Oh, sei un buon gustaglio! Faremo del ramen con questo! Ora va meglio! Ecco qua! Ho cambiato ricetta! Vuoi provare? Oh, mi piacerebbe! Proviamo! Oh, scusa! Che imbarazzo! Anch'io sono un po' imbarazzato! Puoi assaggiarlo? Con grande piacere! Oh, avete degli sconti per questo? Sei in fila? Ok! Prendo anche la gelatina! Ce l'ho fatta per un pelo! Adoro i fumetti! Ma cosa abbiamo qui? Luci? Fantastiche! Prendo anche queste! Oh, fermati! È una festa, allora! Per favore, smettila! Oh, basta così! Battene da qui! Oh! Ehi, signora! Questo dovrebbe aiutarla! Chiuda gli occhi! Oh! La mia faccia non brucia più! Lei è un mago! Grazie! È anche molto carino! Allora, che ne dici di un'altra porzione? Wow! Io so fare le cose più belle! E tu? Io so fare il fuoco! Guarda! Oh no! Abbiamo un problema! Quale? Oh no! Dobbiamo andarcene in fretta! Ma come faremo? Andiamo! Ti farò uscire da qui! In fretta! È proprio dietro di noi! Oh, si sta recuperando! Salvami! Tieni duro! Abbiamo quasi fatto! Ragazzi, per favore mettete un like a questo video! Così potremo sfuggire a quell'onda! Wow! Grazie! Uh-uh! Sembra che abbiamo un problema! Questa è la fine! Ci salverò! Tieni duro! Te l'avevo detto! Come accenderemo! Pensavo lo sapessi! Ce l'abbiamo fatta per un pelo! Meno male! Oh! Siamo felice di vedervi! Ciao a tutti! Che ne dite di un drink? Grazie! Ok! La festa è fantastica! Grazie ancora! Ora devo andare! Ecco! Prenda il suo cocktail! Può tenerlo per me! Non quello! Ok! Forse lo vuoi anche tu! Puoi cavalcare con questo! L'acqua non ti raggiungerà! Ok! Sono certo che ti piacerà! Oh no! Sto per cadere! Non sto a nuotare! Cosa? Perché non me l'hai detto? Fuoco! Forza! Aiuto! Salvatela! Bruceremo tutti! Oh no! È stato risucchiato! Oh! Ce l'ha fatta! Perché stai urlando? Oh! È imbarazzante! Il nostro amico! Lo rivolgiamo come era! Ok! Ci pensiamo noi! Wow! Per un attimo ho pensato che fosse la fine ed è tutta colpa tua! Non preoccuparti! Se è tutto a causa di un paio di bicchieri rotti, allora sistemerà tutto! Fidatevi di me! Guardate e imparate! Che ne pensi? Sembra un cristallo! Wow! Che bel trucchetto! Hai visto? Fantastico! È incredibile! Puoi farne un altro paio? Wow! È veramente incredibile! Ci vediamo! Ehi! Ridammelo! Ma che è successo? Ridammelo tu! È mio! Adoro questo tipo di shopping! Oh! Che cattiva! Prendi questo! Il mio fuoco! Sembra che qualcuno si stia bruciando! Non parle del male! Ora accenderemo un vero fuoco! Grazie! È proprio quello che mi serviva! Mi ha da ardere il ladruncolo! Ok, ok! Ora smettila ai miei capelli! Aiuto! Uh! Sembra che ci sia un problema con il negozio! Oh no! Non possiamo scappare proprio ora! Fidatevi di me! Ecco la marea dell'oceano! Grazie! Ci hai salvati! Avanti! Cos'è che volevi dire? Non essere così cattiva! Sono vostri questi soldi! Ecco, prendeteli! Grazie! Certo perché ho spento il fuoco! Certo perché sei un eroe! Vuoi unirti a noi? Lavoro da solo, ma grazie per l'offerta! Oh! Addio! Ah, figliolo! Credo che questo possa tornarti utile! Ma cosa posso farci? La tua cintura ha bisogno di essere aggiornata, quindi preparati! Ritagliamo degli anelli! Ora li incolleremo lungo la cintura! Prendi la pistola! È già calda! Grazie, figliolo! Ora va molto meglio! Ti piace questa cintura? Provala! Oh, è proprio della misura giusta! Ora sono il più figo! Proprio così! Aspetta! È qui tutta sola! Che bellezza! Non avrei mai pensato potessi essere così bella! Oh, quindi ama l'acqua! Chissà se le piacerà anche questo! Oh, è strano! Wow! E non è tutto! Voglio mostrarti qualcos'altro! Sei davvero incredibile! È la cosa più bella che abbia mai visto! Come hai fatto? Ti fidi di me? Dammi solo un minuto! Posso chiederti di ballare? Certo! Era così tanto che lo sognavo! Non ci stiamo neanche sfiorando! Ma io riesco a sentirti! Wow! Credo che tu mi abbia fatto girare la testa! Oh, grazie per questa danza d'amore! È reciproco! Penso sia ora di tornare indietro! Oh, signora Pizia! Puoi dire se possiamo stare insieme? Ah, c'è solo un modo! La cartomanzia con le stelle pilanti! Ora lo scopriremo! Oh, palla magica! Questi fortunatelli staranno insieme! Per favore le luci! Lasci che lo faccio io! Bene! Ora tu! Ma io sono fatto d'acqua! Però d'accordo ci proverò! Solo un secondo! Devo trovare l'angolo giusto! Con questo ragazzo ti troverai molto bene! Ce l'hai fatta! Le lezioni di fisica sono state molto utili! Oh, sì! Vedo il vostro futuro felice! Hai sentito? Io non ne dubitavo affatto! Wow! Questi effetti speciali! Oh, un po' spaventosi! Ma così affascinanti! Ma da dove viene tutta questa luce? Me ne occuperò io, cara! Ora nessuno ci disturberà! Ehi, guardate che c'è qui! Ce n'è per tutti quelli che hanno soldi! Buon appetito, piccolino! Adoro i soldi! Ehi! Mi piacerebbe provare questo! Ma tu non vai d'accordo con il mio gelato! Spero che il tuo gelato vada d'accordo col fuoco! Che hai fatto? Non ti conviene giocare con il fuoco, amico? Che faresti senza di me? Non basta! Oh, certo! Gelato! Oh, voi piccoli criminali! La pagherete per questo! Corri! Lo fermerò! Sto scivolando! Oh, che sfigato! Perdente, perdente! Oh, guarda! Oh, non è niente! Bambini, siamo a casa! Ciao, mamma! Aspetta, perché sono insieme? Oh, questi bambini! Vi abbiamo portato una cosa! Oh, è bello! Anche a me piace! Finalmente ora è tutto a posto! E siamo di nuovo insieme! Oh, credo che questo sia amore! Fatto! Ne manca solo uno! Scommetto che lo colpirò! Siamo pronti per la grande vendita! Non preoccuparti! Mi occuperò io di tutto, tesoro! Grazie, caro! Allora, giochiamo! Sono pronta! Anch'io! Allora spastati! Non provarci nemmeno! Sono il miglior pastellatore! E che ne pensi di questo? Ehi, questo non vale! Tromprit! Questo trucco non funziona con me! Ma che succede? Ancora? Cara, non ti arrabbiare! Oh, oh! Credo sia troppo tardi! Smettetela! Ve l'ho già detto di non giocare in negozio! Giocate fuori con questa palla! La nostra palla! Cosa abbiamo qui? L'ho vista! Ma dov'è andata? Oh, eccola! Pensavi di poter scappare da me? Presa! Anch'io ti ho preso! Lasciami andare! Era sicuramente Amber! Ma dove è andata? Oh no! Abbiamo perso la nostra piccola fuocherillina! Avanti! Dobbiamo cercarla! Sì, è vero! Sono come cane e gatto! Devo pensarci io! Ehi, cos'è questa strana luce? E questa bellice è sospetta! Il primo indizio l'ho trovato! Questa è una prova! Non ce la faccio! Papà, guarda cosa ho trovato! Belliccia rosa! Nessuno lo sa! Ma tutti fanno parte del mio brillante piano! Due elementi di acqua e due di fuoco ricaricheranno la mia pistola a vapore! E Aggie sarà di nuovo libero! Oh, Aggie! Mio povero Aggie! Presto il tuo cuore si scongelerà! E staremo di nuovo insieme! Pedala avanti in fretta! Lo sto facendo! Non osare toglierle! Tu! Oh, che caldo! Sei così forte! Ecco un livello più difficile! Questo ti rinfrescherà! E libererai il mio Aggie! Presto riempirò la pistola a vapore! E tu sarai la prima! Ti prego, non parlo! Oh, Froome Trick! Vedi? Niente catene! Mancano solo tre elementi! La tua famiglia ti raggiungerà, Amber! Non preoccuparti! Aspettami, Aggie Froome Trick! Molto presto ti libererò! Cosa? Oh no! Non è abbastanza! Cosa? Credo che sia qui! Oh no! Devo nascondermi! Andiamo Aggie! Vieni con me! Andiamo! Tieni duro! Non ci riesco! Aspetta cos'è? Segni di unghie conducono proprio qui! Non c'è dubbio! Devo dirglielo! Per favore non bagnarli! Scusa! Ma li prendi in giro? Papà, posso andare nelle fogne! Ma certo! Non si attaccano così! Mi stai facendo arrabbiare! Sono asciutti! Venite con me! Avanti! Guardate, lì c'è Amber! Oh, Amber! Oh, guarda! Penso che sia lì! Caro, sei un genio! Certo lo so! Che famiglia! Come ti è venuto in mente? Beh, ok! Ma cos'è? Oh, tartarughe ninja mutanti! Ehi, tu! Questo è un superpotere! Ehi! Che vuoi? Che c'è? No! Non ti lascerò passare! Avanti, combanti! Aspetta! Sai di chi è questa pelliccia? Interessante! È sicuramente quella che ha rapito mia sorella! Di che stai parlando? Quel mostro l'avrà già fatta a pezzi! È terribile! Ti aiuterò! Guarda cos'ho! Ninja bomba fumagena! Boom! Ora è tua! Perché? Vuoi che scatti l'allarme anti-incendio? Lascia che ti faccia vedere! Ma dove è andato? Non vedo niente! Ehi! Stile ombra! Kawabanga! Oh! Wow! È una figata! Sono d'accordo! Ma usalo con molta saggezza! Spero che tu possa riavere tua sorella! Fantastico! Come hai detto che funziona? Di nuovo quel fumo! Ma dove è andato? Eccomi! Sai ya! Sei un grande ninja! Beh, questa è l'ultima, amico! Grazie, Raph! Buona fortuna! Anche a te, caro! Ciao! Penso che sia lì! Non l'abbiamo ancora trovata! La mia... Beh! Mi dispiace di averti urlato contro! Bene, bene, bene! Ed ecco il secondo elemento! Ah! Che sei? Butta questa pistola! Oh! Che caldo! Ma che hai fatto? Che pesante! Oh! Te l'ho fatta! Torna subito! Non muoverti! Oh! Aspetta! Tanto non puoi farlo! Oh! Volevo solo qualche marshmallow arrostito! Caldi e buoni! Sono deliziosi! Ehi! Non sono un camino! Lasciami andare! Uno, due, tre! Il fuoco è sconfitto! No! È stato facile! Non c'è di che! Ciao, ciao! Fuoco! Strum! Stricchia! Uh! Ho il secondo elemento! Ora basta aggiungere un po' d'acqua! Uh! Uh! Pronto! Tesoro! Mi senti? Solo un bimbo! Rispondi al telefono! Oh no! Anche tua madre è scomparsa! Beh, almeno la foto è bella! Devo chiamare la polizia! Se ne occuperà l'agente Kat! Ho tanta paura! Kat, sei tu? Certo che sono io! Che ti serve? Mia moglie e mia figlia sono scomparsi! Aiuto! Non riesco a trovarle! Ho capito! Quindi sono di fuoco, hai detto? Credo ci sia lo zampino delle gambe lunghe di Mommy Longlands! Ma come hai fatto a farti assumere? Guarda qua! Tutte le frade puntano su Kissi! Nella contea di Trumville, alieni scomparsi, tutti i fatti indicano che Kissi è la colpevole! E probabilmente ha già fatto loro del male, capisce? Cosa? Capisco, stiamo parlando di alieni! Prendi questo! Perché? Non mi serve! Come faccio a farti capire come stanno le cose? Guarda qua! Devi andare da un dottore! Cosa? Hai la febbre? Basta così! Torna da dove sei venuta, agente stagnola! Oh, accidenti, adesso! Uh, che bel regalo! E' proprio quello che volevo! Devo solo raccoglierci l'acqua! Ma non gli rovinerò la sorpresa! Quindi forse non è lei! Oh, salve! Salve, come va? Oh, è un po' strano! Ma dove ti ho già visto? Bene, scegli quello che vuoi! Qualcosa dallo scaffale più lontano che c'è? Vuoi una barretta o un succo di frutta? Questo? No! Posso prendere qualcosa da quello scaffale? Ma certo! Di cosa hai bisogno esattamente? Abbiamo una vasta gamma di prodotti! Qualcosa per la colazione! Smettila di muoverti! Cercherò qualcosa di insolito! Ma che succede? Perché sporzarci inutilmente? Bene, ragazzo d'acqua! È ora di riunirsi alla famiglia! Papà, attento! Quella è chissi! Non sparare! Papà, mi sta portando via! Tieni duro, pigliolo! Wade, afferra la mia mano! Forza! Ci siamo quasi! Ragazzi, per favore aiutateci! I vostri like fermeranno quella terribile pistola! Ti ho quasi raggiunto! Forza, ragazzi! Un po' di più! Oh, ha funzionato! Ci è mancato poco! Papà, no! No way! Salvati! Oh, sì! È così spaventoso! Ora sono tutto solo! Che posso fare adesso? Avrei dovuto sparare! Ma non avrei colpito nessuno con questo jet d'acqua! Oh, il telefono della mamma! Mi manchi così tanto e ti voglio tanto bene! Mi dispiace non averti salvata! Mamma mia, che brutta cosa! Ma che succede, piccolino? La mia famiglia è stata rapita e tutti quanti! Che orrore! Mi dispiace tanto! Aspetta! Si possono ancora salvare! Lo farei io, ma guarda la mia gamba! Sei la loro ultima speranza! Alzati! Ti preparo per la battaglia! Grazie, Mario! Ok, ora sei pronto! Combatterai per la vita della tua famiglia! Stai attento! E non dimenticare questa! Sì, lo so! E sono pronto a tutto! Attenta, Kissy! Andiamo! Ok, vai! È buona fortuna! Oh, cielo! Ho quasi finito! Basta con le sofferenze! Soffia, anche tu non vedi l'ora! Manca poco, tesorino! Penso di aver fatto un ottimo lavoro! Ho quasi tutti gli elementi! Kawabunga! Kawabunga! Oh, ma cos'è? A dove viene il fumo? Non vedo nulla! Chi c'è? Vieni qui! Non puoi nasconderti! Devo salvarli mentre Kissy è distratta! Non muoverti! Oh! Ma chi è stato? Colui che li salverà tutti! Oh, ma scalzone! Dammi quelle palline o te ne pentirai! Prova a prendermi! Perdente! Oh, sei così scivoloso! Credo che ora sia un po' arrabbiata! È un bene che tu sia qui perché ora ti prenderò! È troppo presto per gioire! Insieme siamo parti! Uh-uh! Le tue ultime parole? Pier Dio alla tua vita! Siamo i più parti! E anche i più cool! Facciamogli vedere! Perché porti quegli occhiali? Scusa, cara! Ora sono serio! Non potrete sconfiggermi! Fuoco, acqua e... Siete tutti pronti? Lavoriamo in gruppo! Sì, signore! Oh, posso usare tutti i miei poteri! Stupidi elementi! Vi distruggerò uno per uno! Andate via! Non credo proprio, Kissy! Attacco! Oh-oh! Ce l'ho fatta! La resistenza è inutile! Non pensare alla pistola! Tienila! Ho le manette! Oh sì! Ce l'abbiamo fatta! Ma come? Questo significa che Aghi rimarrà congelato per sempre! Mio caro, mi dispiace! Ho fatto tutto quello che potevo! Che tristezza, caro! Aiutiamo Kissy tutti insieme! Siamo pronti! Il potere dei quattro elementali! Evviva! Finalmente sono di nuovo libero! Oh, Aghi! Mi sei mancato tanto! Grazie! Ora possiamo giocare! Vieni con noi! Certo! Pronti! Oh! Non sai quello che è successo? Scongelalo per favore! Puoi? Oh, non preoccuparti! Sono la migliore quacca della zona! Fuoco! Vuoi un po' di sale o pepe? Cosa? Non è per questo che l'ha portato! Che servizio terribile! Wow! Come sei arrivato qui? Vieni fuori! Vuoi sposarmi? Non posso crederci! Sì, sì che lo voglio! In realtà non ce l'ho con te! Ce l'ho con Amber! Oh! Mi sta rifiutando! Come osi! Allora basta! Ti rimetto nel barattolo! Ma dai! Neanche ci conosciamo! Beh, ora ci conosciamo! Aspetta! E' il mio Wade! Povero Wade! Sto arrivando! Non riesco a respirare! Ho bisogno di aria! Ehi, ci sei? Signora, passo a aiutarla! Oh! Pensavo di soffocare! Grazie, tesoro! Seguimi! Che figata! Ok, penso che questi ti serviranno! Set da futura sirena! E' così bello! Diventerà la migliore sirena! Non così in fretta! Devi prima completare alcuni passaggi! E solo dopo diventerai una sirena! Room trick! Cominciamo dal trucco! Siediti! Cos'è? Ora lo vedrai! Aggiungiamo del ghiaccio e dei glitter di diversi colori! Il blu e il verde andranno benone! Fantastico! Prepariamo le armi! Mi stai spaventando! Ti prego! Non farlo! Non sparare! Ehi, non muoverti! Avanti! Oh! La mia faccia! Dovrei dare un'occhiata! Il mio fuoco! Ehi! Leva questo affare da me! Ma questo è solo l'inizio! Room trick! Iniziamo! Cosa? Per favore non farlo! Oh! Wow! Niente male! Mi piace! Anche a me! Primo punto completato! Ottimo lavoro, tesoro! Sono bellissima! Ma dobbiamo lavorare un po' sui capelli! Che ne dici di un palino caldo? Cosa? L'hai bruciato! Ops! Non l'ho fatto apposta! Sbarazziamocene! Ok! E ora seguimi! Arrivo! Scegli! Ci sono parrucche per ogni gusto e preferenza! Questa ti piacerà! Provala! Vediamo! Oh! Si sta sciogliendo! Toglimela in freccia! Non ha funzionato! Allora piano B! Perché sono così sfortunata? Sarai una sirena cowboy? Esistono! Piccola! Toglimela! Che c'è che non va in me? Rilassati Amber! Non preoccuparti! Sei nelle mani di una vera maestra! Spazzoliamo questa criniera! Che male! Wow! Non riesco ad arrivare ai suoi capelli! Ehi! Mi devi una spazzola nuova! Abbiamo bisogno di misure più urgenti! Metterà un freno a tutto questo! Incredibile! Ce l'hai fatta! Fantastico! Molto meglio! Ci stiamo avvicinando all'obiettivo! Bene! Bene! Questa Amber non riesce a calmarsi! E tu? Mio caro! Abituati a vivere con la tua Ursula! Ora staremo insieme per sempre! Non vedo l'ora che arrivi il giorno del matrimonio! Sarò una sposa meravigliosa! Wade! Proviamo! Sei pazzo! Fammi uscire! Tesoro! Stai benissimo! Oh! Che schifo! Smettila! È così timido! Ma ci penserò io! A noi! Ehi! Non c'è nessun noi! Oh c'è! No! Oh davvero? Ok! Ti insegnerò a diventare più gentile! Vedrai! Non esiste! Sembra acqua! Ma è così irascibile! Mi piacciono i ragazzi che hanno carattere! Ne vuoi un po'? Oh! Mettila via! Non ha fame! No no no! Abbiamo così tante cose da fare! Ciao Ursula! Sì certo! Sono già lì! Stanno arrivando! Ok! Iniziamo l'operazione di puntura della medusa! Ce n'è punizione! Piccola vai! E adesso che c'è? Forse un vestito o la pinna? Oh no! Ember! Aiuto! Ma che è successo? Stai lontano da me! Conosco il karate! Non funzionerà! Dov'ho nascondermi! Aha! Ok! Credo di aver trovato un punto cieco! Fantastico! Ora giochiamo! Oh! È meglio che tu stia attenta! Ecco quello che succede quando te la prendi con le mie amiche! Oh! Esilarante! E ora aggiungiamo un nuovo bersaglio! Uh-huh! Forza! Diamo un'occhiata alle tue capacità! Uh-huh! Oh! Occhio al bersaglio! Ciao ciao! Ce l'ha fatta! Cos'è? Penso che mi tornerà utile! Fantastico! Ho un'idea! Speriamo funzioni! Volevo solo fare un top da sirena! Tagliamo il tessuto per ottenere le squame! Ci servirà un po' di colla! Aggiungiamo qualche dettaglio! Pronti? Ma voglio che sia lucido! Questo sistemerà tutto! Incogliamole insieme! Veramente fantastiche! Queste squame sono così belle! Userò anche gli avanzi! Wow! Sarà molto elegante! Fantastico! È ora di provare un look da mare! Stupendo! E c'è anche un braccialetto! Davvero fantastico! Ehi! Ridammi tutto quello che hai preso! Puoi sognartelo! Se mi sconfiggi ti darò una coda! A fare fatto! Vai! Nessuno mi ha mai battuto a questo gioco! Preparati a perdere! Avanti! Oh! Ahah! Te l'avevo detto! Ho perso! Ehi Ender! Mettimi come portiera! Grazie tesoro! Questo non ti aiuterà! Wow! Prendi questo! Sì! Ora sei nei guai! Campo di fuoco! Fermati! Non vedo nulla! Non può essere! Ho vinto! Dov'è il mio premio? Ok! Hai vinto! Ma non è giusto! Ed è anche della mia taglia! Oh! Ok! Possiamo aggiornare la mia lista! Abbiamo la coda! Ora ci serve solo una forzina! Oh! Questo mi starà bene! Tutte le ribelli finiscono qui! E voi Wade non fate eccezione! Non vedrete mai più la libertà! Che sciocchezze! Sta parlando con dei vasi! Cosa? Pensi che sia divertente? Aspetta un attimo! Ho finito la trasformazione! Oh no! Devo fermarla! Venite a me! Sì padrona! Eccoci! Voi due occupatevi di quella Ember! Sì signora! Sconti bollenti! Oh! È proprio quello che volevo! Uh uh! Beccata! Non potrai sfuggire alla trappola di Octo! Ah! Eh! Eccoci qua! Cosa? Ma questo da dove viene? Ehi tu! Difenditi! Ma tu che sei? Di cosa hai bisogno? Sono Octo! La tempesta dei mari! Preparati a pergere Ember! Cerca di schiumare questo! Uh! Che incubo! Sono in trappo la casa! E adesso che faccio? Oh no! Il muro è quasi distrutto! Ci sono! Ragazzi! Per favore aiutatemi! Ho bisogno dei vostri voti per riparare il muro! Vi imploro! Uh uh! Ha funzionato! Grazie mille! E ora tocca a me! Ho finito le munizioni! Me lo presti un attimo? Cosa? Oh no! Non ti perdonerò mai! Beh! Peccato signor otto zampe! Hai bisogno di questo vero? So che ne hai bisogno! Oh no! Ti salverò io! Ops! Questo no! Andiamo! Oh spero di non essere in ritardo! Eccoti qui! Hai affrontato Octo! Ma non sconfiggerai me! Braccio di ferro è il mio elemento! Non dirai sul serio, vero? E si alzassimo la posta in gioco! Che ne dici di una forcina? Oh no no! Hai detto forcina? Beh! Allora ci sto! Forza granchietto! Te distruggerò! Wow! Sei forte! Ma non mi arrenderò! Ha ora di venerla! Oh! Non potrai vincere! Ora sono furiosa! Ho vinto! Non può essere! Salutami Octo! Ed ecco il mio premio! Oh wait! Aspettate un attimo! Non è lui! Mi hanno ingannata! Beh! Almeno questa forcina è vera! Vediamo! Mi sta bene! È figa! Amber! Potrebbe servirti questo! Non riuscirai a sconfiggere Ursula senza un tridente! Prendilo! Wow! Forte! Quasi dimenticavo! L'ultimo passo! Oh! Ce l'ho quasi fatta! Ora ho l'intero set! Abbiamo fatto un ottimo lavoro sirena! Ok ragazze! Quando avrete finito non voglio vedere neanche una singola pietra in piedi! Oh Amber non mi ostacolerà più! Controlliamo! Che strano! Pronto? Da quanto tempo non ci vediamo Amber? Wade è qui! Ursula! Lascialo stare! Oh davvero? Allora fermami! Lo salverò io! Lasciami andare! Ma dov'è? Hai sentito? È qui! Occupiamoci di lei! Ma perché? Io tu hai una pistola! Come funziona questa appare? Ma è rotta? Oh! Che c'è qui? Svegliati sorellina! Oh che brutto momento! Ok ci penso io! Vattene da qui o te ne pentirai! Room trick! È stato terribile! Cosa? Ops! Ciao ciao! Ora va meglio! Un'altra vittoria per Amber! Ehi ma che succede? Da dove viene questo fumo? Oh tu! Ho bisogno di Wade! Se hai così tanto bisogno di lui allora prendilo! Oh non ce la fai! Smettila! Ne ho abbastanza! Wade non sarà mai tuo! Room trick! Oh il gattino ha liberato gli artigli! Allora ho una sorpresa per te! Room trick! Oh sono di nuovo in piammi! Cosa? No! Finalmente sono tornata nel mio corpo Amber! Grazie per avermi salvata! Wade sono così felice di vederti! È impossibile! Non lo permetterò! Wade! Il mio cuore! Non ce la faccio! Smettila di soffrire! Ha funzionato davvero! Ottimo lavoro! Ora possiamo attaccarla! Oh sì! Mondo crudele! Oh! Fa caldo! Lasciami andare! Fa male! Aspetta fermati! La mia faccia! Vi odio! Ne vuoi ancora? No! Buh! Wade! Ha funzionato! Ora la finirò! Per favore non farlo! Non siamo così malvagi! Dobbiamo perdonarla! Ma come? Dopo tutto quello che ci ha fatto! Ho paura! Allora vattene da qui! Oh! Interessante! Divertiamoci un po'! Perdente! Ehi! Ridammelo subito! Hai fretta? Ehi! Smettetela! Ti metteremo con la testa nel butter! Qualcuno mi aiuti per favore! Allontanatevi da lei subito! Oh! Oh! Mi scusi signora! Ora va meglio! Cosa? Una F! Non di nuovo! Non è giusto! Non non io! Cosa? Che bello! Andiamo tesoro! Davvero? Figo! Cosa? E io? Tesoro! Sono così felice! Vieni con me! Questa è la tua nuova casa! Wow! Che bello! Ogni studente della mia classe è un fantastico supereroe! Perché io non lo sono? O non essere triste! Potresti diventarlo anche tu! Vieni! Ti faccio vedere! Questo è quello che dovrai fare! Completa tutti i punti e diventa la più forte! Oh! Iniziamo! Wow! Aspetta! Cos'è questo suono? Il bambino sta dormendo! Per te pianti! Questo è il tuo fratellino acqua! È così carino! Già lo amo! Piccolo, piccolo, fai dei sogni! Oh! È difficile farlo dormire con questo pannolino! Uh! Che puzza! Tesoro! Ho portato tutto il necessario! Vieni qui! Ci truccheremo! Non so se è una buona idea! Non essere timido! Avanti! Siediti! Questo trucco sarà di fuoco! Forse è meglio di no! Non hai capito! È assolutamente sicuro! E soprattutto bellissimo! E ora iniziamo! Oh! Iniziamo a preoccuparmi! Mettiti comoda! Sono pronta! Finiremo in un attimo! Facciamo una fiamma come la mia! E ora un eyeliner luminoso! Non aprire gli occhi! Insipriamo il naso! Fatto! Fammi solo controllare una cosa! È troppo caldo così! Non è abbastanza! Aggiungiamo un altro po' di fuoco! Wow! Lo adoro! Anch'io! Controlliamo la temperatura! Oh! Funzionato! Ottimo! Semplicemente perfetto! Congratulazioni! Il primo passo è completato! Ottimo lavoro! E ora pensiamo al top! Ma certo! Oh! Non questo! Ancora questo casino! È così difficile mettere le cose a posto! Pronto, Kissy! Vieni qui! Oh! Sei già qui! Signorina Amber! Sono pronta a pulire! Inizia da questi! Come vuole lei, signorina Amber! Devo calmarmi! Calmati, Amber! Oh! Ci sono un sacco di cose qui! Oh! Questo è il suo bambino! Oh! Molto carino! Speriamo solo che non se ne accorga! Oh! Kissy! Volevo proprio un massaggio! Ha funzionato! Grazie, Kissy! Grazie a te! E ora vieni con me! Dobbiamo andare! Ehi! Non parlo! Come ti permetti! Non ti perdonerò mai per questo! Tesoro! Quel mostro ti ha fatto del male! Oh no! Di nuovo questo casino! Ne ho abbastanza! Non posso lasciare che la bambina porti i vestiti stropicciati! Sistemerò tutto! Ora va meglio! A proposito, dov'è? E che cos'è questo strano odore? Oh no! Fermati! Stiamo andando a fuoco! Niente male! Piccola, ho un top per te! Provalo! Di certo ti starà bene! Che carino! Grazie, mamma! Ora sono davvero di fuoco! Proprio come te! Mi piace! Ehi, Kissy! Vuoi giocare? Trum, click, back, flip! Questa è la mia occasione! Non piangere, ti imploro! Che succede? Dove stai andando? Aspetta! No! Ti prendo! Sono così felice! Andiamo! Non osare mai più rubare la mia famiglia! Ora va meglio! Oh no! Non metterti in mezzo, ragazza! Mamma, aiuto! Legami, mostro! Muoverti ed ecco il mio pranzo! Non ti azzardare a toccarlo, dai! Ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto! I vostri like aumenteranno il mio livello di fuoco! Aiutatemi! Oh! Ora è fantastico! Wow! Grazie! Ehi tu, allontanati dal bambino! Oh! La mia testa! Lasciami andare! Oh! Quanto fumo! Dobbiamo sbarazzarci di lei! Eccomi! Ciao, piccola! Come stai? Eh, chissi! Lo avete fatto voi? Avevamo bisogno di un tappeto! Ma cosa? Non chiedere! Oh? Ok! Oh! È ora di passare alla corona! Qual è la migliore? Questa o questa? Non mi piacciono! Beh, devo trovarne una nuova! Oh! Che cattivo gusto! È orribile! Ma questa è perfetta! Proprio quella che cercavo! Proviamola! Se solo fosse vera! Oh sì! Forse posso ordinarla! Quanto costerà? È troppo cara! Ma so chi può permettersela esatto! Credo che a Wade non dispiacerà! Vediamo cosa c'è qui dentro! Ciao, tesorino! Wow! Questa è una fortuna! Decisamente sufficiente! Room trick! È stupenda! Tesoro! Vieni qui! Ma dov'è? Forse si sta nascondendo! Ah! Il mio collo! Che dolore! Dov'è il mio collare? Eccolo! Uh! Molto meglio! Oh no! Ha preso fuoco! È stata una pessima idea! Chiare! Beh! Meglio di quanto pensassi! La bambina lo adorerà! Ah! Bello scherzo! Questi sono per me! Stai parlando della corona? Wow! Che bella! Mi piace tantissimo! Ora sono la regina del fuoco! Sono così felice! Possiamo eliminare un po' di passaggi ora! Colletto, corona e acconciatura sono pronti! Abbiamo fatto un ottimo lavoro, vero? Tesoro! Oh! Sei sveglio! Non piangere, tesoro mio! Stai bene! Oh! Andiamo, tesoro! Ti aiuterò ad addormentarti! Dormi! Dormi! Piccolino! Perché non dormi? Allora guardiamo insieme una cascata? Che pace! Chiunque si addormentirebbe! Forse dovrei mettermi a dormire anch'io! Oh no! Chi sono? Ho dormito troppo! I miei capelli sono a posto! Devo sbrigarmi! Usiamo un trucchetto! Penso che ora vadano bene! Sono pronta! Oh! Devo sbrigarmi! Buongiorno classe! Mettiamoci al lavoro! Non so qual è la terza risposta! Vediamo! Beh, tutte le altre sono corrette! Questa è una A! Ma A! Non una più! Perché? Ho finito anch'io! Guardi! Questo è il mio castello di ghiaccio! Olaf è l'ingegnere! Ok! Un buon punteggio! Puoi essere fiero di te, Olaf! Il pupazzo di neve ha avuto un punteggio migliore! Forse dovresti lasciarlo andare! Ok! Continuiamo la lezione! Poverino! Cosa ti ho fatto? Perché? Lui era mio amico! Perché l'hai sciolto? Cosa? Scusa! Non volevo! Mi dispiace davvero! Ma cos'è? È disgustoso! Questa ti insegnerà la lezione! È così afficcicoso! Non si fanno scherzi nella mia classe! Bene! Tornerò! È stato fantastico! Ehi, non spingermi! Vuoi combattere? Che orrore! Non posso andare in giro così! Oh! Qui c'è un intero guardaroba! Che posso scegliere? Credo che questo andrà benissimo! Proviamolo! Nessuna pittoria può risolvere questo! Ma conosco un trucchetto con il ghiaccio! Niente! Questo non fa per me! Penserò a qualcos'altro! Oh sì! Addio, Melma! Ti dimenticherò come se fossi stato un incubo! Solo un po' di più! Perfetto! Ce n'è abbastanza anche per la gonna della bambina! Tesoro, vieni qui! Che c'è, mamma? Oh! Voglio che lo provi! Wow! Questo è fuoco! Lo adoro! Un attimo! Cos'è quello? Ora mi servono dei braccialetti! Ma ho un'idea! Posso disegnarli! Un po' di creatività e il gioco è fatto! La mamma sarà molto sorpresa! Questo smasso è fantastico! Guarda, ti piace! Oh piccola, non devi rovinare la tua pelle! Cancelliamo questo e facciamone uno nuovo! Mi ero impegnata così tanto! Mi dispiace, tesoro! Voglio il meglio per te! Facciamolo insieme! Abbiamo bisogno di Fomiran lucido e paillette e naturalmente degli strumenti! Disegniamo prima i contorni! Dovrebbe somigliare a un piccolo pocherello! Facciamo attenzione! Ora ritagliamolo e aggiungiamo delle paillette per renderlo ancora più brillante! Così piccole ma bellissime! Alcune pietre sono davvero preziose! Ora aggiungiamo una piccola corda! Così potrai indossarli! E... Troom trick! Pronti! Wow! Sei davvero la migliore! Sono meglio di quelli che ho disegnato io! Ti sono davvero grata! Super potere! Ora sono davvero di fuoco! Ok! E ora manca solo l'ultimo punto! Ehi, guardate che c'è qui! Ce n'è per tutti quelli che hanno soldi! Buon appetito piccolino! Adoro i soldi! Ehi, ciao! Mi piacerebbe provare questo! Credo di averti già visto! Mi dispiace! Ma tu non vai d'accordo con il mio gelato! Spero che il tuo gelato vada d'accordo col fuoco! Troom trick! Che hai fatto? Non ti conviene giocare con il fuoco, amico? Che faresti senza di me? Non basta! Oh, certo! Gelato! Oh, voi piccoli criminali! La pagherete per questo! Corri! Lo fermerò! Oh! Sto scivolando! Oh! Che sfigato! Perdente! Perdente! Ottimo lavoro! Oh! Mi ha spento! E tu mi hai bruciato! Fa male! State bene! Dovresti tenere a bada tua figlia! E tu pensa a tuo figlio! È meglio che stai lontano da me! Spero non ti sia fatto male! Quelle due sono due matte! È ora di riprendersi! Uh! Acqua curativa! Questo dovrebbe aiutare! Grazie! Mi sento meglio! Non devi frequentarla più! Oh! Ti ha quasi stinto! Devi riscaldarti! E non osare avvicinarti di nuovo a lui! Scusa, mamma! Ricorda, non è un tuo amico! Non avvicinarti a lei! Ehi! Come stai? Ciao! Scusa se ti ho bruciato! Volevo solo fare amicizia! Niente! Potrà rovinare la nostra amicizia! Oh! Siamo di nuovo qui! Battì il cinque! Ehi! Non c'è fuoco nei miei capelli! Ma che è successo? Figlio? Te l'avevo detto di stare lontano da mia figlia! Ehi! Il mio bambino! Smettila di piangere! Noi ce ne andiamo! Allora, ma che devo fare con te? Oh! Devo pensare! Oh! Bastoncini infuocati! Li adoro! Temetemi! Wow! Mi stai spaventando! Non funziona! Penso che questo ci aiuterà! Brucerai ancora di più! Ehi, mamma! Oh! Andiamo! Le bolle di fuoco sono pronte! Ma dov'è finita la mia bambina? Oh no! Wow! Che carino! Uno, due! Fermati! Non giocare con il lanciafiammi! È molto pericoloso! Ho preparato delle bolle per te! Guarda! Sono molto dense! Ciao ragazzi! Non fatelo anche voi! Questo è... Un Troom Trick! Oh! È fuoco! Grande! E non è tutto! Ora abbiamo tutti i materiali giusti! Hai bisogno di aiuto? Grazie! Ritagliamo una striscia di pomeran! E ora tocca a te! Passiamo lungo il bordo con la pistola! Intelligente! E aggiungiamo la frangia infuocata! Bello, no? Oh sì! Penso di potercela fare! Così! Wow! Mi piace! E non dimenticare questo! Oh oh! Ha funzionato! Oh! Ho di nuovo i poteri del fuoco! Questo è il potere del karate delle sirene! Il flusso del mare profondo! London Amala! Ancora! Wow! Stai facendo progressi? Continua! Kaya! Chi sono questi? Acrobati perdenti? Come hai detto, vuoi fare karate? Ok, scusate, acrobati! Siamo dei veri combattenti! Non distrarti! Siamo combattenti di karate! Non ci disturbare! O metterò in pratica le mie tecniche su di te! Ehi! Lascia stare il bambino! Oh, combattenti di karate! Perché siete così cattivi? Una tempesta sottomarina! Oh no! Il mio acquario! Ho esagerato! Ehi! Così mi bagnerò! Devo occuparmi di questa crepa! Oh no! È difficile respirare! Wow! Il mio potere è tornato! Ti salverò! Sensei! Per un trick! Devo scappare prima che arrivi la polizia! Per favore! Ho bisogno di acqua! Oh! Questo miracolo! Tutti questi allenamenti sono stati molto utili! Grazie! Siete fantastici! Perché? Ne dubitavi? Forse? Bene! 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 Oh! Si è un po' sciolto! Ehi! Posso aiutarti? Puoi provare questo prodotto extra caldo? Oh! Sembra delizioso! Serviti pure! Oh! Ha una cottura media? Sì! È buono! Non credi? Ok! Allora lo proverò! Ops! Sei così divertente! Forse potresti usare un cucchiaio? Grazie! Non è così caldo ai bordi, giusto? Oh! Sa di fumo! Allora che ne pensi? Oh! Vuoi che parli con il cuoco? Sì! Chiedigliene ancora! Oh! Sei un buon gustaglio! Faremo del ramen con questo! Ora va meglio! Ecco qua! Ho cambiato ricetta! Vuoi provare? Oh! Mi piacerebbe! Proviamo! Oh! Scusa! Che imbarazzo! Anch'io sono un po' imbarazzato! Vuoi assaggiarlo? Con grande piacere! Oh! Avete degli sconti per questo? Sei in fila? Ok! Prendo anche la gelatina! Ce l'ho fatta per un pelo! Adoro i fumetti! Ma cosa abbiamo qui? Luci! Fantastiche! Prendo anche queste! Oh! Fermati! È una festa allora! Per favore smettila! Oh! Basta così! Battene da qui! Oh! Oh no! L'ho bruciata! E adesso che faccio? Ci penso io! Ehi signora! Questo dovrebbe aiutarla! Chiuda gli occhi! Oh! La mia faccia non brucia più! Lei è un mago! Grazie! È anche molto carino! Allora, che ne dici di un'altra porzione? Wow! Io so fare le cose più belle! E tu? Io so fare il fuoco! Guarda! Brumplit! Oh no! Abbiamo un problema! Quale? Oh no! Dobbiamo andarcene in fretta! Ma come faremo? Andiamo! Ti farò uscire da qui! In fretta! È proprio dietro di noi! Oh! Ci sta recuperando! Salvami! Tieni duro! Abbiamo quasi fatto! Ragazzi, per favore mettete un like a questo video! Così potremo sfuggire a quell'onda! Wow! Grazie! Uh-uh! Sembra che abbiamo un problema! Questa è la fine! Ci salverò! Tieni duro! Che l'avevo detto! Come accenderemo? Pensavo lo sapessi! Per un trick! Ce l'abbiamo fatta per un pelo! Meno male! Oh! Siamo felici di vedervi! Ciao a tutti! Che ne dite di un drink? Grazie! Ok! La festa è fantastica! Grazie ancora! Ora devo andare! Ecco! Prenda il suo cocktail! Può tenerlo per me! Oh! Non quello! Ok! Forse lo vuoi anche tu! No! Non ho preso il costume da bagno! Puoi cavalcare con questo! L'acqua non ti raggiungerà! Ok! Sono certo che ti piacerà! Oh no! Sto per cadere! Non sto a nuotare! Cosa? Perché non me l'hai detto? Fuoco! Forza! Aiuto! Salvatela! Bruceremo tutti! Oh no! È stato risucchiato! Oh! Ce l'ho fatta! Perché stai urlando? Oh! È imbarazzante! Il nostro amico! Lo rivolgiamo come era! Ok! Ci pensiamo noi! Troom trick! Wow! Per un attimo ho pensato che fosse la fine ed è tutta colpa tua! Non preoccuparti! Se è tutto a causa di un paio di bicchieri rotti, allora sistemerà tutto! Affidatevi di me! Guardate imparato! Troom trick! Che ne pensi? Sembra un cristallo! Wow! Che bel trucchetto! Hai visto? Fantastico! È incredibile! Puoi farne un altro paio! Wow! È veramente incredibile! Ci vediamo! Ehi! Ridammelo! Ma che è successo? Ridammelo tu! È mio! Adoro questo tipo di shopping! Oh! Che cattiva! Prendi questo! Il mio fuoco! Sembra che qualcuno si stia bruciando! Non parle del male! Ora accenderemo un vero fuoco! Grazie! È proprio quello che mi serviva! Sarai la mia legna da ardere, ladruncolo! Ok, ok! Ora smettila! I miei capelli! Aiuto! Oh! Sembra che ci sia un problema con il negozio! Oh no! Non possiamo scappare proprio ora! Fidatevi di me! Ecco la marea dell'oceano! Grazie! Ci hai salvato! Avanti! Cos'è che volevi dire? Non essere così cattiva! Sono vostri questi soldi! Ecco, prendeteli! Grazie! Certo perché ho spento il fuoco! Certo perché sei un eroe! Vuoi unirti a noi? Lavoro da solo, ma grazie per l'offerta! Ti aspettiamo! Questo non è tuo! Dallo a quel signore! Oh! Addio! Ah, figliolo! Credo che questo possa tornarti utile! Ma cosa posso farci? La tua cintura ha bisogno di essere aggiornata, quindi preparati! Ritagliamo degli anelli! Ora li incolleremo lungo la cintura! Prendi la pistola! È già calda! Grazie, figliolo! Ora va molto meglio! Ti piace questa cintura? Provala! Oh, è proprio della misura giusta! Ora sono il più figo! Proprio così! Aspetta! È qui tutta sola! Che bellezza! Non avrei mai pensato potesse essere così bella! Oh, quindi ama l'acqua! Chissà se le piacerà anche questo! Oh, è strano! Wow! E non è tutto! Voglio mostrarti qualcos'altro! Sei davvero incredibile! È la cosa più bella che abbia mai visto! Come hai fatto? Ti fidi di me? Dammi solo un minuto! Posso chiederti di ballare? Certo! Era così stanco che lo sognavo! Non ci stiamo neanche sfiorando! Ma io riesco a sentirti! Wow! Credo che tu mi abbia fatto girare la testa! Oh, grazie per questa danza d'amore! È reciproco! Penso sia ora di tornare indietro! Oh, signora Pizia! Puoi dire se possiamo stare insieme? Ah, c'è solo un modo! La cartomanzia con le stelle pilanti! Ora lo scopriremo! Oh, palla magica! Questi fortunatelli staranno insieme? Per favore le luci! Lasci che lo faccio io! Un trick! Bene! Ora tu! Ma io sono fatto da acqua! Però d'accordo, ci proverò! Solo un secondo! Devo trovare l'angolo giusto! Con questo ragazzo ti troverai molto bene! Ce l'hai fatta! Le lezioni di fisica sono state molto utili! Oh, sì! Vedo il vostro futuro felice! Hai sentito? Io non ne dubitavo affatto! Wow, questi effetti speciali! Oh, un po' spaventosi! Ma così affascinanti! Ma da dove viene tutta questa luce? Me ne occuperò io, cara! Ora nessuno ci disturberà! Oh, guarda! Oh, non è niente! Bambini, siamo a casa! Ciao, mamma! Aspetta, perché sono insieme? Oh, questi bambini! Vi abbiamo portato una cosa! Oh, è bello! Anche a me piace! Finalmente ora è tutto a posto! E siamo di nuovo insieme! Oh, credo che questo sia amore! Oh, no! Tesoro, guarda! Forza, alzandovi! Non abbiamo paura dell'acqua! Prendi questo alluvione! Fuo troppo caldo! Ma sta andando tutto bene! Continua! E voi? Non preoccuparti! Dobbiamo salvare il negozio! Oh, room trick! Sembra che il negozio sia salvo! Ce l'abbiamo fatta! Oh, no! I nostri ragazzi! Perché? Questo è così ingiusto! Mamma, nasconditi! Sta iniziando a piovere! Aspetta qui! Tesoro, ti bagnerai! Sono i nostri amici! Non possiamo lasciarli qui! Ha tutto così bagnato! Guarda, sta funzionando! Mamma, wow! Room trick! Oh, wow! Sono così felice che tu stia bene! Caro, sono così felice! E qualcuno deve andare a scuola! Dai, mamma! Non fare tardi! È il tuo primo giorno! Figlio, ti ricordi? Ti stanno aspettando alla stazione di polizia! Devi servire il paese! Sì, signore! Lo descriva! Ciao! Oh, eccoti qua! Allora, vuoi lavorare per noi? Sì, posso avere un'arma! Dopotutto sono un poliziatto ordinario! Prima ti daremo un uniforme! Oh, sembra fantastica! Oh, e non è tutto! Wow, grazie! La mia moto di servizio è molto meglio di una pistola! Pronto? Che è successo? Certo, sto arrivando! Oh, fine della connessione! A tutta velocità! Andiamo! Spiega tutto quello che vuoi in tribunale! Ti ha rovinato la festa! Lei? Portatela in prigione! È ora di andare in prigione, nerd! La festa per te è finita! Ma non è giusto! Fatemi uscire! Aspetta, ti richiamo! Ricordati che i nerd non sono fighi, ma le sirene regnano! Perché mi fai questo? Oh, no! Anche lei non è stata invitata? Stai bene? Tu che ne pensi? Devo farti una foto! Ragazzi, ho un servizio fotografico! Non sorridere! Non avevo intenzione di farlo! Fantastico! Credo di avere un piano! Esattamente quello che mi serve! E ora preparo la mia coda da sirene! Pronta! Ho portato un treppiedi! Sei pronta? Certo, agente! Le sirene sono sempre pronte! Ti ho detto di non sorridere! Non c'è bisogno di urlare! Abbiamo delle regole! Che mostro! È disgustosa! E quest'acne? È così grande da spuntare persino fuori dalle foto! Ma grazie! Beh, almeno ora riuscirò a mettere questa foto nei fascicoli! Beh, grazie! Non flertare con me! Torna in cella! Volevo solo ringraziarti per avermi tolto l'acne! Ora è bellissimo il mio viso! Questo cos'è? Guarda, abbiamo un piano! Wow, ragazzi! Dove l'avete presa? E comunque, ho già una pelle perfetta! Che da dirci di un nuovo taglio di capelli? Sono d'accordo! Iniziamo! Allora hai bisogno di questo! Non l'ho mai usato! E non lo farai mai, perché è mio! Ma è solo per un paio di minuti! Che stai facendo? Ho il mio piano! Wow, così in fretta! È ora di scappare! Questo mi servirà! Spero che nessuno se ne accorga! Che c'è di meglio di una vecchia ciambella? Aspetta, dove sono i prigionieri? Stanno scappando all'armi! Codice rosso! Codice rosso! Non pensare che non ti prenderà a nerd! Ci incontriamo di nuovo! Oh, il profumo della libertà! Fai un respiro profondo! No! La tua passeggiata è finita! Ora torna in cella! Dovrò agire secondo il piano! Non te la prendere, tesoro! Ho preso l'ariccia a capelli per te! Wow, è così bello! Mi piace! Posso provarlo? Arricciamo una ciocca e accendiamo questo gadget! Davvero adorabile! Ottimo! Un altro punto completato! Non sono mai stata così bella! Chi è? Ehi! Vuoi qualcosa di proibito? Guarda qua, io ce l'ho! Interessante! Non mi dispiacerebbe un blaster! Io prendo un joystick! Anch'io! Giù le mani! Ho una cosa per ognuno di voi! Ok, allora lo scambio con un ferro arricciacatelli! Tesoro, non ci vediamo da tanto! Perché hanno tolto il beccuccio? Non se li lavano i denti! Posso provarlo? Anch'io ne ho davvero bisogno! Questo non è igienico! Ma sono pronta a dartelo in cambio di uno scheletro di sirena! Ti prego, ti sopplico! Stai parlando di questo? Prendilo, ti do anche la parrucca! E ora ti mostrerò al mondo intero! Ciao, ciao! Wow, ha funzionato! Devo capire con cosa è fatto questo joystick! Ciao, questo è il negozio della tua prigione! Vuoi comprare conchiglie? Ci sono di ogni gusto e colore! Oh, fantastico, le prendo! Bad boy, bad boy, che farete? Oh! Stai scappando? Questo è strano! Prova ad attaccargli un chip! Ottima idea! Troom, troom, trick! Download del programma di controllo completato? Sì! E ora andiamo al negozio! Così! Oh! E se... Spero che questa sia la mia taglia! Buon pomeriggio! Dammi le conchiglie e la vernice, per favore! Certo, ufficiale! Missione compiuta! Ehi! Missione compiuta! Grazie mille! Oh! Cos'era quello? Ho bisogno di una vacanza! Fantastico! Perfetto! Possiamo tagliare la parte superiore! Oh! Non gettare i chip in giro! Meglio collegarli al nostro computer! Per fortuna ho una laurea in hacking! Giochiamo! Fantastico! Che gioco è? Fidati! Ti piacerà! Sapevo di non potermi fidare della piovra! Wow! Che bella coda! Oh no! Un esqualo! Devo stare attenta! Schivato! Devo uscire da qui! C'è una serratura! Ragazzi! Aiutatemi a prendere questa coda! Dovete mettere mi piace a questo video per aprire il lucchetto! Sbrigatevi per favore! Grazie mille! Siete i migliori! Wow! Si adatta perfettamente! Sto arrivando squalo! Ora te la vedrai con me! Sì! Sono io la vincitrice! Abbiamo un uovo arrivato? Non ne hai diritto! Il fatto che tu abbia mangiato un nerd dice già qualcosa! Ehi! Che ci fai tu qui? Spostati! Scendi o mi schiaccerai! È così comodo! Non pensavo lo fosse! Aiuto! Sono sopravvissuta a malapena! Oh! Perché sono così scortunata! Prendo anche questo! Ora sì che sto bene! Non è giusto! Pranzo! Giusto in tempo! Oh sì! Dobbiamo occuparci di questo tizio! Non fare dal male alla mia amica! Ehi! Lasciami andare! Sono allergico ai crostacei! Questo ti insegnerà qualcosa! Lasciami andare! Ti prego! Fammi uscire! Fammi uscire! Non ce la faccio più! Oh! Andiamo! Ma come fa a farlo? E ora mi lavo pure la pelliccia! Che sollievo! E ora le gambe! Fatto! Dovevo cambiare aria! Ora cercherò di andare in un'altra prigione! Buona permanenza qui dentro, perdanti! Girati! Vuoi andare da qualche parte? Nessuno è ancora scappato da me! È tutto! È ora di lavorare! E niente sorprese! E ora, miei cari prigionieri figri, mettetevi al lavoro! I vostri pennelli! Iniziate a dipingere! Questa è la mia occasione per completare un altro punto! È ora di passare al make-up! Occhi, puoi distrarre la guardia! Ma certo! Ehi, questa prigione è stupida! Ehi tu! Non ti muovere! La prigione sarà la tua nuova casa! E non osare più dirlo! Non posso affidarvi neanche un compito semplice! Tornate in cella! Muovetevi! Non vi farò più uscire! Questo lo vedremo! Guarda cosa ho trovato! Passiamo al trucco! Utilizziamo le strisce di stencil per rendere le liner uguali su entrambi gli occhi! Il blu mi starà benissimo! È così carico! Oh, forza ragazza! Ok, iniziamo! Così! Con attenzione! Penso che sia fantastico! Aggiungiamo un po' di verde! Ora sono una vera principessa sottomarina! Ovviamente una sirena deve avere delle bellissime ciglia! Perfette! Ehi, questo cos'è? Credo che questo ti servirà! Grazie tesoro! Un po' di brillantini non guastano di certo! Guardate quanta bellezza! E ora il tocco finale! Il rossetto! Sono stupenda! Che succede? Sei tu polipo cattivo? Anche se so cosa posso fare! Disegniamo qualche squama! Vediamo! Che figata! Ora puoi cancellare la voce trucco! Dove stai andando? Non sono a pari tuoi! Ehi! Ridammelo! Ma dove lo stai portando? Non potrai certo nasconderti da me! Ed ecco la lista! Aspetta, questo è il negozio di giocattoli! Credo di aver trovato la via d'uscita alla libertà! Oh! Ha bisogno di un rebranding! Te lo immagini? Quella è la mia prigioniera! Ti prego non farlo! Oh no! Come ho fatto? Game over bambola! Oh, non toccare più la mia roba! Non l'ho toccata! Wow, cos'è? Credo sia la chiave per la libertà! Sciocca, te l'ho fatta! E ora avanti! Frigatevi! E niente trucchetti! Vi tengo d'occhio! È chiaro? È il momento di usare i muscoli e tu non puoi fermarmi! Facciamo vedere a quel piccoletto chi è che comanda! Sembra che io sia pronto per un nuovo peso! Aspetta, ti aiuterò ad uscire! Cominciamo con te! Wow! Un cavo! Penso di poterci fare qualcosa! Un paio di nodi qui! Un paio di nodi là! Fantastico! Ora proviamolo! Appoggiamolo intorno alla mano! Posso aggiungere qualcosa tipo perle? Fantastico! Incastriamo le perline! Guarda! Sono montagne russe! Il mio gioiello è quasi pronto! Wow! Che meraviglia! E ora... Un trick! E un capolavoro! E allora, novellini! È il momento di darvi una lezione! Vi farò vedere perché mi chiamano Pigmai! Uno, due... Ok! Mi sono riscaldato! Questo è il vero potere! Wow! È arrivato il momento di combattere! Ora tocca a me! Forza! Apperriamolo e... Oh! È così pesante! Lo spettacolo è finito! Qualcuno può aiutarmi? Non di nuovo! Il mio Sharpie! Chi ti ha fatto questo? Che brutta cosa! Devo aiutarlo! Inizierò con un passaggio cardiaco! Sì! Ce l'ho fatta! Oh Sharpie! Sei di nuovo con me! Metteggiamo con un ballo di Fortnite! Grazie! Ed ecco la ricompensa per il tuo aiuto! È per me! Grazie! Mi si agisce perfettamente! Credo che tu possa controllare la lista! Ottimo lavoro! Wow! Congratulazioni! Visto che non sei più una nerd ma sei una sirena ora puoi andare! Grazie agente! L'avete vista? Mia moglie è scomparsa! Oh! Eccola! Tesoro! Mi sei mancato tanto! Che ne sarà di me! Adottatemi vi prego! Ho un ottimo curriculum! Penso che ti troverai bene! Wow! Grazie mille! Cos'è questo? Forte! Che ne dici di un film? Ci sta! Allora andiamo! Ciao!